buonasera per la mamma di samuele vostro figlio ha i dinosauri di mio figlio vi prego di portarla la scuola domani ok signora sono la mamma di samuele comunque prima cosa sono cose creature e vi vado a mettere in mezzo se l'hanno a spicciare solo loro e poi ne tengono i dinosauri a casa mi animali non ne tengono a me che lo creatore che ha perso i dinosauri vedi che ho guardato buono in due zainette figlio mio e in due figlio mio c'è solo in due zainette c'è solo una cigna e un propotamo perciò i dinosauri non ce le stanno perciò prima cosa guardare se buono un figlio l'avrà perso in due purmandino perché fa sempre un scemo in due purmandino che ci fottano tutti quanti e si sarà negaruto l'addigno i dinosauri prima cosa guardare se buono guardare se buono un figlio